Ciao a tutti e ben trovati nel mio canale. Finalmente si è tornato a fare tutela con questi meravigliosi orecchini. Ho chiamato Nifea. Allora come in alcuni gruppi ho detto che in questo orecchini ho nascosto due cosettine. Allora il primo che ho nascosto, che vedete adesso è chiuso, che si possono essere aperti, così vediamo, ingradiamo, va bene così, scusate, ragionando un po' la camera, aperti, anche questa, vedete, e poi si possono essere richiusi, essere chiusi potete usare pianto e aperto. La seconda che ha nascostina è di dietro, che possono essere utilizzate anche dubble. Niente, come vedete qui ho modificato un po' la parte dietro, mentre qua in più può leggermente più profondo, però per tuttora useremo questa perché rimane anche più pianto. Va bene, inizio a presentare i materiali che occorrono, così iniziamo con lì tuttora, per fare questi orecchini, occorrono le kit e beds, occorre i mezzo cristalli da 4 mm, mezzo cristalli da 3 mm, no scusate, questa è la super duo, mannaggia, vabbè, super duo, ecco la mezzo cristalli da 3 mm, allora occorrono le kit, allora occorrono le kit, rocales mio che 11.0, rocales mio che 15.0, poi occorrono le kit, devo prendere un po' perché non lo so, scusatemi, ok qui potete vedere, occorrono questa seconda colorazione, tocco 11.0, occorrono soltanto 6 pezzi, e la goccia, questa goccia è agata, 30x10, ok preparo i materiali per la lavorazione, così iniziamo con lì tuttora, ok come potete vedere ho inserito sul mio ago, 6 kit e bit alternata con la 15.0, portato fino del mio filo, quindi inserite a questa seguente e portato fino del filo, dopo che avete portato giù, dovete ripassare da dietro tutte le perline, in questo modo tutte, ok ho ripassato, come vedete i due fili ci incontrano, adesso dovete fare tre nodo, fate tre nodo, dopo che avete fatto i tre nodo, dovete portare dentro il nodo uno della kit e bit, è uscire con l'ago della 15.0 successiva, ok qui potete vedere che io la nodo, ho tirato dentro questa kit e bit, è uscendo dalla 15.0, adesso cosa dobbiamo fare, andiamo inserire su ago, 3, 11.0, e andiamo inserire nella 15.0 successiva, allora vediamo se ce la faccio provare, e andiamo a tirare il filo, non è facile scusate, ecco ce l'ha fatta alla fine, come vedete queste 15.0 verranno applicate sopra le kit e bit, quindi cosa dovete fare, contivando così, andando avanti, inserendo sempre 3, 15.0, no 15.0, 11.0, su ago, e uscendo da qua vado a inserirmi nella prossima 15.0, e applichiamo questa 3, 11.0 sopra la kit e bit, ci vediamo un'altra volta così potete vedere, dopo che avete fatto questi passaggi, quindi per uscire bene dovete mettere un po' storta, scusate io, ecco, la camera non vedo bene, quindi devo infilare anche fuori dalla camera, quindi come vedete, salta da bit e bit e bit, uscendo dalla 15.0, quindi tirate il filo, e questi, verranno applicate sopra le kit e bit e bit, ok, contivate terminando qui, tutte in giro, e dovete uscire dalla 15.0 a questo, ecco, sto inserendo l'ultima mia 3, 11.0, tiro il filo, come ho detto, dovevamo uscire dalla 15.0, allora qui per non andare sotto, dovete appostare voi con le vostre mani, eccoci qua, ok, come avete inserito, adesso uscendo dalla 15.0, dobbiamo portare dentro la kit e bit, dovete portare dentro della kit e bit, senza entrare dalla 15.0, tirando filo, tirate il filo, e adesso dovete portare, portare su in fuori un'altra, lato infuronata a questa kit e l'altre, in questo modo, in questo modo, scevolata la gomma, lo rimettiamo, eccoci qua, ce l'ha fatto, tiro il filo e io me lo giro e me lo giro, adesso tra questi kit e best verranno inserite le nostre cristalli da 4 mm, ce la faccio aprire veloce, ecco, quindi come ho detto tra questi spazi andiamo inserire il nostro mezzo cristalli sempre in foro un altro successivo, quindi dopo che avete inserito tutto dovete ripassare così in modo di rafforzare il lavoro, quindi inserite tutto e ripassate, ok, io ho inserito le mie mezzo cristalli e sto uscendo della kit e best, cosa dobbiamo fare? io me lo rigiro nuovamente, provando uscire dal foro superiore, adesso li portiamo di nuovo in foro basso della kit e best, trovo il foro, eccoci qua, l'ho trovato, vedete, e dovete entrare anche nella 15.0 successiva, ok, come vedete uscendo dalla 15.0, adesso cosa devo fare? dobbiamo portare, entrare nella 11.0, nella 15.0, 11.0 veramente, portate dentro della 11.0 e tirate filo, ok, ho tirato, il prossimo lavoro che dobbiamo fare è collegare tutte queste 11.0 senza entrare nella 15.0, quindi uscendo da qua vado insieme nella successiva, nella successiva e collegate, ok, come vedete dopo che avete collegato esce un cerchetto, adesso il prossimo mostro a cosa, come vedete sopra questa kit e best trovate 1, 2 e 3, io sto scendo dalla seconda, adesso andiamo a inserire su ago 2, super 2 e saltiamo 1, 2 e andiamo a inserire nella terza e tiriamo filo a questo modo faccio vedere così a questo modo vedete vedete vedete, quindi al super 2 verrà applicata sopra di questa 2 che abbiamo saltato quindi inserisci 2 super 2 su ago e contate così, salto 2, 1, 2 e vado nella terza il tiro filo quindi contate così inserire le vostre perline e dovete ripassare eccoci qua, io ho ripassato le mie super 2 e ripassato anche questo collegamento per tenere la più bella forte e come vedete sto scendo dalla foro in basso di questo super 2 cosa devo fare portiamo in foro un atto a questo super 2 tiro filo eccoci qua adesso tra questi spazi qui andiamo inserire la nostra mezzo cristalli da 3 mm sempre un foro in alto della super 2 ecco a questo modo mentre mentre a questo spazio qui andiamo inserire il nostro secondo colorazione della 11.0 ecco in questo modo quindi vado ancora a inserirmi un'altra volta per farla vedere che questi spazi vedete dove c'è questa kit e put della kit e bez andiamo inserire la nostra mezzo cristalli da 3 mm dove vuole eccolo ecco e tirare filo quindi di nuovo la nostra 11.0 seconda colorazione qua fino che incastra quindi mentre qui sopra applicando vedete la differenza andate inserire la 11.0 tirate filo eccoci quindi continuando inserire a questo segment ok inserendo l'ultimo 11.0 dovete entrare anche a questo super 2 a questo mezzo cristallo e uscire con l'ago della super 2 ok della super 2 adesso dovete inserire io me lo giro così potete vedere anche passaggi da qua così lasciamo così ok vedete uscendo dalla super 2 dovete inserire su ago 3 11.0 della prima colorazione miuchi e saltare questa 11.0 e inserire direttamente nella super 2 nella cristallo e nella super 2 successiva prima entro nel cristallo perché ecco vedete e esco di nuovamente nella super 2 e verrà di nuovo applicata 3 11.0 della seconda colorazione sopra questi topo quindi vado salto topo e inserirmi direttamente dal super 2 nella cristallo e poi nuovamente nella super 2 quindi dovete contivare inserendo la vostra pelina queste 6 venti lo giro per poter farla vedere che poi alla fine esce questo lavoro così coltivata finché non avete terminato eccoci qua come avete rimasta ben pianta e bella riposta quindi uscendo dal super 2 io mi porto in centrale a questa 11.0 adesso tra questa 11.0 andiamo applicare un mezzo cristallo da 4 millimetri un 11.0 e un mezzo cristallo da 4 millimetri e andiamo inserire nella rock gruppo 11.0 successiva quella della centro in questo modo faccio vedere un'altra volta quindi inseriamo un mezzo cristallo da 4 millimetri un rocales un mezzo cristallo da 4 millimetri uscendo da la centrale da questo gruppo della 11.0 vado salto tutte queste vado nella gruppo successiva e vado direttamente infilarmi nella seconda va dove si vediamo se la trovo eccolo nella seconda il tiro filo ok dovete continuare a questo modo finché non l'avete terminato quindi poi terminata inserito dovete uscire con l'ago di questo mezzo cristallo qui ok come ho detto dovete uscire ecco l'ago ha questa mezzo cristallo adesso andiamo inserire il nostro gocce cosa dobbiamo fare inserire tre roca su ago io poggio cristallo cristallo rotto rondelle da tre millimetri che è dimenticata presentare e foro foro fuori faccio subito la nostra goccia e 3 15 0 dove l'un altro eccolo e poi 15 0 quindi dovete inserire io porto su così faccio vedere come dovete inserire come vedete io inserito 3 11 0 un cristallo rondelle da 3 mm la goccia e 3 15 0 e porto su fino al mio lavoro adesso cosa dobbiamo fare saltiamo questa 3 15 0 entriamo nella goccia e nella cristallo da 3 mm e tiriamo il filo in modo che poi portiamo bene sul laboretto ecco adesso di nuovo inserite 3 11 0 e dovete portare nell'altro lato del cristallo a questo modo adesso dovete ripassare tutto questo lavoro da lato che non avete arrivato qui frontale ok sono arrivato adesso inseriamo soltanto 3 11 0 e andiamo inserire direttamente nel cristallo tiriamo filo in questo modo adesso non rimane altro di ripassare tutto questo lavoro anche questa goccia ripassate poi arriva allora ripassate questo lato anche nella goccia finché non avete ritornato arrivare qui su in alto ok quando siete arrivati parte superiore qui raccomando di ripassare almeno tre volte io prima entrata nel cristallo ma adesso andare bene la cappuccia per la base ora che mi passo anche a questa locale qua non so che mento molto tempo chiedo scusa ma per la cosa lavori più difficili ci vuole manca più tempo e ripassare nuovamente almeno due volte a questo modo vedete se ripassate a questa viene anche la forma meglio eccoci qua riporto nuovamente rispetto è un'altra cosa che è rimasto di ripassare nuovamente tutte queste lato per rafforzare comunque con questo orecchino è terminato come vedete in basso ribasso ok dietro viene così e davanti è così quindi orecchino è terminato spero che tuttora ti ha piaciuto se ti è piaciuto mentre mi piace e condividi io vi saluto con la prossima tuttora che farò i prossimi giorni ciao